In collaborazione con Design, Stile e Comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina-Isernia-San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Consul Brokers SPA, via Monsignor Bologna 56, Campobasso, broker di assicurazioni. Buonasera, benvenuti a quest'altra puntata di Molise a Calci. Abbiamo tanto di cui parlare come in ogni classico salotto del lunedì sera. Faremo il punto della situazione per quanto riguarda la Serie D, ma anche i campionati regionali di eccellenza e promozione. In eccellenza l'Isernia ha consolidato il proprio primato. In promozione per quanto riguarda i giochi di vetta c'è molto più equilibrio che regna proprio lì su. Per quanto riguarda il salto di categoria. Allora subito un buonasera, un abbraccio affettuoso a Tabita Morgese che come sempre è qui al mio fianco. Buonasera Tabita. Buonasera Gianni e buonasera cari amici telespettatori. Vi ricordo come sempre che siamo visibili in Abruzzo, canale 96 e nel Lazio canale 749. Ci potete seguire anche su internet, in streaming, sul sito www.telemolise.com. Inoltre se volete interagire con noi potrete farlo scrivendoci sulla nostra pagina Facebook di Molise a Calci. Su Whatsapp no. Su Whatsapp no. Ok, quindi non vengono dati i numeri di telefono. Però sarebbe un'idea. Sì, ma no, diciamo il numero di telefono non si dà. Di Telemolise. Di Telemolise avessimo il numero di riferimento per i messaggi c'è, ma non è valido per Whatsapp. Se poi vuoi dare il tuo personale, ma io non intendo fare questa cosa, comunque si scherza. Allora questa sera sono venuti a trovarci Silvio Tedeschi, attaccante dello Spinete. Buonasera. E Gaetano Pescolla, portiere del Campobasso Juniores. Buonasera. Ecco, quindi un saltino lo facciamo grazie al nostro ospite Silvio Tedeschi anche nel campionato di promozione. Allora Silvio, 0-0 nell'anticipo di sabato tra la Torre Maiano e voi dello Spinete. Eri squalificato, così come era squalificato anche Nico Polzella, tra l'altro squalificato per tre turni. Tu che sei un tipo pacato, insomma, questo è notorio che sei una persona tranquilla. Per tre turni che cosa hai dovuto fare? Non lo so. Qualche terremoto è venuto in campo? No, no, diciamo che vabbè una giornata l'ho presa perché a seguito di quattro cartellini gialli, quindi dovevo scondare una giornata. Altre due mi sono state assegnate a seguito di un contrasto, diciamo, con Morena, giudicato in modo... Con Morena del vinchiaturo. Esatto, del vinchiaturo in un recupero. L'arbitro, secondo me, ha avuto un abbaglio sia verso di me che verso Roberto Morena e ha dato due giornate a testa. E quindi sommate fanno tre. Per quanto riguarda Gaetano Pescola, portiere del Campobasso, Juniores. Buonasera, ti abbiamo salutato. È stata la giornata dei gol a grappoli, sia per quanto riguarda la Juniores, che ha giocato sabato a gamba tesa contro il Manfredonia e si è vinto 6-0, e sia per quanto riguarda la prima squadra che ha vinto 5-3 in casa contro il San Nicolò. Allora vogliamo fare un breve esunto di queste due partite perché tu hai assistito anche a quella del Campobasso a Selvapiana, la decima vittoria stagionale contro il San Nicolò, partita pirotecnica, bellissima per uno spettatore neutrale. Poi un tifoso o del San Nicolò o del Campobasso avrebbe patito un po' di più. Prego. Sì, allora ieri è stata sicuramente una bella partita. Il Campobasso è sceso in campo nel primo tempo forse poco determinato, però nel secondo tempo si è completamente rifatto e ha creduto nella vittoria della partita. Ha creato tantissimo e è stato cattivo sottoporta. Ha portato a casa questi tre punti fondamentali e importanti. Sì, vittoria sostanzialmente legittima e giunta alla fine di un bel secondo tempo. Secondo te poi che cosa non andava nel primo? Forse nel primo tempo un po' il campo che era diverso dalle altre giornate, appesantito dalla pioggia e forse pure l'adattamento tra le due squadre ha portato a un primo tempo poco emozionante. Mentre il secondo tempo è stato sicuramente a favore del Campobasso perché è riuscito a impostare nel migliore dei modi e ha saputo esprimere un buon calcio. Per quanto riguarda invece la Juniores, quattro gol di Perrella. Abbiamo fatto la diretta di questa partita da gamba tessa sabato pomeriggio. Vi state comportando bene con la squadra Juniores? Siete dei 97 molto interessanti. Tra l'altro siete la maggior parte classe 97, tra cui anche te, e quattro classe 98. Per qualcuno di voi si potrebbe aprire la strada, la porta della prima squadra? Penso che l'obiettivo della Juniores è quello di crescere i ragazzi e in futuro portarli in prima squadra. Ho capito. Tra l'altro ad onore del vero c'è stata una convocazione per un giocatore della Juniores di Carmine Rienzo e Mario Vavolo. Si tratta di Matteo Corbo, difensore centrale, che è andato in tribuna in occasione della gara maceratese-campobasso. Ma nessuno ha fatto neanche un minuto. Si tratta solo di una convocazione per Corbo. Allora andiamo a vedere quello che è successo a livello di risultati. Facciamo un breve riepilogo dei risultati e vediamo la classifica del girone F della Serie D. Risultati li abbiamo visti tante volte. Allora decima vittoria stagionale per il Campobasso. Poi pareggio sia per Castelfidardo Termoli che per Chieti Amiternina, ma anche per Giulianova Fano, raggiunta al novantesimo. La vicecapolista che ora è a meno 6 dalla maceratese. La maceratese che ha battuto proprio la Civita Novese all'ottantesimo grazie a un gol di Garaffoni. Poi 1-0 del Matelica sulla Iesina. Re Canatese 2, Agnone 0 ad aprire. Una straordinaria rete di traini. Poi San Benedettese ce l'hanno 3-0 facile. E si sono affrontati Pesaro e Fermana, che saranno i prossimi avversari in trasferta del Campobasso. Perché i lupi sono attesi da due trasferte consecutive. Allora, maceratese 46, San Benedettese e Fano 40, Civita Novese 38, Matelica e Campobasso 37. Allora ti chiedo, Gaetano Pescola, il Campobasso proviene da quattro risultati utili consecutivi, di cui due vittorie e due pareggi. Ci possono essere dei rimpianti legittimi relativi a questa parentesi di campionato, perché se avesse avuto quattro punti in più relativi alle partite contro Iesina e Amiternina, non due impossibili avversari. A quest'ora sarebbe secondo in classifica. Sì, sicuramente. Ci possono essere questo tipo di rimpianti? Sì, avrebbe potuto fare di meglio, però lo stesso un bareggio è un buon risultato. Ecco, quindi questo lo sottolineiamo. Vullo ancora non ha perso una partita. Quattro risultati utili consecutivi. E questo va tutto ascritto al merito dell'allenatore. Neo arrivato in casa, rosso-blu. E allora, abbiamo avuto uno scambio di battute con l'allenatore del Campobasso, Salvatore Vullo. Cosa che capitano, direi, ma soprattutto cose che capitano quando si parla di calcio, perché ovviamente nessuno qui pretende di avere un pensiero uniformato, che il nostro pensiero sia quello unico da tenere in considerazione, ma ognuno la pensa a modo suo, il giornalista, così come la persona intervistata. Tabita, a te. A proposito della partita Campobasso-San Nicolo, il nostro Gianni ha intervistato per noi, Salvatore Vullo, allenatore del Campobasso, e Massimo Epifani, allenatore del San Nicolo. Vediamo. Dove nasce questa vittoria del Campobasso? Al termine di un bellissimo secondo tempo, credo. Sì, a parte il secondo tempo, ma anche nella voglia di recuperare, perché anche il primo tempo la squadra è andata... Mai domani. È andata sotto, capendo di aver sbagliato, ha recuperato di nuovo, ha recuperato tre volte. Abbiamo recuperato tre volte, non è facile, ragazzi. Questa la dice lunga sulla voglia che ha questa squadra di andare a fare quello che io sto cercando di proporre, cioè quella di andare più avanti possibile senza nascondersi mai. Perché in questo tipo di campionato mettere le mani avanti non serve a niente, serve solo a giochi chiari. A me non piace giochi chiari, io me la gioco sempre a vincere sbagliando qualche cosa, ma perlomeno mettendoci sempre la faccia e mettendoci tutto quello che possiamo. Dopo, credo, il quinto gol si è girato verso la tribuna, verso uno spettatore, ha detto qualcosa con molta pacatezza. Non vorrei sapere esattamente che cosa, ma che cosa è successo? Questo non è calcio, quindi lo lascio a interpretazione volontaria. Questo non è calcio, parliamo di calcio. Allora, parliamo di calcio. Nel primo tempo, che cosa non è andato quando il Campopasso ha finito sotto? Non è andato perché, per quanto riguarda il primo gol, noi abbiamo fatto subito passaggio indietro. La preparazione della gara era tutta in avanti, invece parla a centro, parla a dietro, parla a portiere. Loro cosa hanno capito? Temporeggiamento. hanno assunto un atteggiamento diverso da quello che magari avrebbero voluto. Ci hanno attaccato subito loro e ci hanno creato qualche problema. Dico la mia, ci saremmo aspettati Giovannisci dall'inizio, ma è una mia valutazione, detta così, a fine partita. Mettietela per te. Grazie, arrivederci. È stato molto gentile. Ma il rammarico sono, innanzitutto l'espulsione, perché il ragazzo ha sbagliato, non doveva fare quel fallo prendendo la doppia munizione. E poi dopo l'elizio, dopo, credo, un minuto, abbiamo preso il 4-3 dove Fusaro, credo, voleva crossare, quindi un gol raguambolesco. Poi abbiamo provato in tutte le maniere di riportare il risultato in parità, non ci siamo riusciti e questo ce ne dispiace, però credo che nell'arco della partita penso che la mia squadra ha fatto una grande partita, è venuta a campo basso, sarei giocata come ce la giochiamo con tutte le squadre, creando tantissime situazioni da gol, tirando tante volte in porta e creando situazioni dove potevamo fare gol. Ovviamente, ripeto, è lo spirito della dialettica, lo spirito del dialogo, del confronto. Io continuerò sempre a dire la mia e chi ha intervistato è libero di rispondere come e come crede, come meglio crede. Allora, Silvio Tereschi, un'idea sul campo basso, sulla partita di ieri vedendo le immagini? Ma diciamo che è stata una bella partita per noi tifosi del campo basso perché comunque alla fine abbiamo portato a casa l'intera posta in palio. Il campo basso fino ad ora sta facendo, a mio avviso, uno splendido campionato. Si è ricreato l'entusiasmo che mancava in città da diverso tempo e quindi vanno fatti complimenti alla società, ai giocatori, a tutto lo staff che comprende la città di campo basso. Per quanto riguarda l'Agnone adesso con la nostra tabita vedremo il contributo, le parole di Giuseppe Donatelli che ammetterà in maniera molto sportiva la sconfitta, il merito della vittoria della Re Canatese. Un pensiero sul Re Canatese-Agnone perché poi sono quelle partite nelle quali Gaetano Pescolla sarebbe opportuno uscire con un punto, poi, in caso mai, vincere in casa per portarsi a una media di due punti a partita esatta. e invece l'Agnone ieri ha stentato e ho visto le immagini della Re Canatese ha creato davvero tanti pericoli all'Agnone quindi la vittoria della Re Canatese non fa una grinza. Sì, la Re Canatese ha meritato di vincere l'Agnone purtroppo ha creato poco ed è stato poco bravo a concludere azioni da collo fondamentali che cambiano sicuramente la partita. Ora aspetta l'Agnone rifarsi per le prossime giornate e cercare di mantenere la posizione in classifica o addirittura salire. Due turni interni consecutivi secondo te decisivi a questo punto del campionato perché poi le giornate iniziano a mancare. Sì, penso che questi due turni l'Agnone deve cercare di fare bene per crescere e soprattutto per affermarsi in questo campionato. Quindi Agnone Giulianova alla ripresa dei giochi e Agnone Celano. Tabita. È finita 2-0 la partita Re Canatese-Agnone a questo proposito sentiamo Giuseppe Donatelli allenatore dell'Agnone. Vediamo. Mister, credo sulla legittimità del risultato finale è d'accordo anche lei? Sì, perché nel senso che la Re Canatese chiaramente ha sfruttato sicuramente quel bolide di Traini che un po' ha destabilizzato un pochettino una partita che secondo me era destinata poteva essere destinata anche sul risultato di parità chiaro che quel tiro da 40 metri di Traini è normale che ha tolto gli equilibri alla mia squadra anche perché in settimana abbiamo avuto un sacco di ragazzi che hanno avuto l'influenza quindi gli 11 che sono andati in campo diciamo erano quelli un pochettino più pronti però è chiaro che dopo abbiamo incontrato una squadra forte secondo me squadra forte anche fisicamente Lei pensa che la Reganatese è un po' fuori dalla lotta per la salvezza? Io ho visto una buona squadra oggi ho visto una buona squadra oggi sinceramente me l'aspettavo un pochettino diversa invece ho visto una squadra buona che sicuramente ha meritato la vittoria dopo senza dubbio Ecco la sportività di cui parlavo di Giuseppe Donatelli versione 2.0 la seconda gestione dopo l'esonero che praticamente è durata una sola giornata allora è tutto fatto per la maceratese in vetta alla classifica Silvio Tedeschi più sei sul Fano e sulla San Benedettese oppure può succedere qualcosa di eclatante? Ovviamente può succedere di tutto e questa non è una frase fatta però non sono tanto i sei punti di distacco ma secondo me proprio sono gli uomini che convongono la maceratese che fanno la differenza a mio avviso è la squadra super favorita però si sa nel calcio può succedere sempre di tutto e continua a detenere questo record che prende una non dico non è un record nazionale perché si sta giocando in campo nazionale la serie D la quarta serie ma è un record che ingloba anche altre categorie dalla A alla D non nessuno non ha questo record della maceratese dell'imbattibilità quindi anche in serie A la Juventus ha perso una partita a Genova la Roma ha perso più di una partita in serie B non c'è nessuno che non ha perso una partita in Lega Pro uguale e invece in serie D vai a trovare la maceratese che ancora zero nella tabellina delle sconfitte fatte e quindi solo onore e merito alla squadra allenata da Maggi vediamo che cosa da vita adesso vediamo Lamo Viola il primo blocco di Lamo Viola a cura del direttore Antonio Di Lallo A Selvapiana siamo al quinto minuto del primo tempo torniamo un attimo dietro perché il primo gol del San Nicolò parte da un errore di Marinucci Palermo torniamo ancora dietro insieme al nostro regista Donato Mignogna perché c'è un passaggio di Minadeo eccolo qui vedete Minadeo che praticamente passa il pallone a Marinucci Palermo andiamo avanti qui e Marinucci Palermo che non riesce a trattenerlo si inserisce Valim vedete che gli ruba palla poi c'è l'inserimento di Santoni eccolo qui il giocatore che riceve di prima intenzione scarica un grande sinistro la palla rimbalza sulla traversa non entra ma Valim che aveva seguito l'azione naturalmente nell'indifferenza della difesa rosso-blu vedete Valim che arriva sul pallone tutto solo ed insacca il gol del vantaggio del San Nicolò al trentatresimo del secondo tempo passaggio in rovesciata di Todino qui torniamo un attimo dietro perché Todino che serve Fusaro questo è il gol che ha consentito al campo basso di sorpassare il San Nicolò vedete l'intuizione di Todino che in rovesciata offre a Fusaro Fusaro con il sinistro vedete osserva il portiere e quindi con un pallonetto secondo noi anche abbastanza voluto eccolo vedete Fusaro che guarda il portiere alza la testa poi con un pallonetto supera lo stesso portiere del San Nicolò e va a fissare il 4 a 3 con le immagini siamo a Re Canati sbaglia il portiere della Re Canatese siamo al secondo minuto vedete il passaggio sbagliato per il suo compagno che tenta una rovesciata si inserisce di lullo qui a tutta la porta davanti a sé effettua anche una finta porta il pallone sul sinistro ma poi il suo tiro è davvero indecoroso grande opportunità sprecata dall'Olimpia agnonese in avvio di partita al 43esimo del secondo tempo angolo di Carpentino tenta la rovesciata vedete a centro area un giocatore dell'Olimpia andiamo un attimo dietro poi c'è l'inserimento di Ibe vedete che va sul pallone ma praticamente è troppo alta la sfera per cui Ibe non riesce a dare il colpo di testa così come si dovrebbe quindi c'è un colpo di testa sbilenco la palla si impenna e per l'Olimpia sfuma l'opportunità di accorciare le distanze allora abbiamo visto questa moviola relativa alle partite della serie D Silvio Tedeschi hai visto si sono un attimino spiegate le parole di Vullo relative al primo gol quelle del primo gol del San Nicolo Vullo ha detto abbiamo sbagliato perché a livello di mentalità abbiamo dato la palla dietro e quindi il San Nicolo ha capito di poter attaccare si è visto si sono materializzate le immagini nel gol del San Nicolo quello intendeva il tecnico rosso-blu sì voleva sicuramente intendere quello perché le immagini alla fine rispecchiano quello che all'analisi del mister è stato un errore diciamo di atteggiamento che però è stato superato con il passare dei minuti per quanto riguarda il gol di Fusaro mai gol fu più cercato voluto da tutto l'ambiente da tutto il pubblico probabilmente ecco la volontà di Fusaro qual era? ecco solo per la cronaca secondo te Gaetano Pescola forse la volontà di Fusaro era quella di mettere un grosso mai errore fu più gradito insomma sì forse era quella di mettere un grosso questo grosso però si è trasformato in una sorta di tiro a pallonetto e si è infilato in porta tra l'altro per Fusaro il secondo gol stagionale ha realizzato anche contro il Fano con una punizione dalla fascia destra che balse l'1-1 poi finì 3-2 contro il Fano allora dobbiamo fermarci Davide esattamente ci fermiamo per qualche minuto ci vediamo tra poco di nuovo in studio per parlare dei temi del campionato di eccellenza e non solo perché come detto c'è un ospite Silvio Tedeschi con il quale possiamo tranquillamente dialogare del campionato di promozione perché è parte in causa di questo spinete ecco prima di rivedere un'altra volta i risultati della giornata di eccellenza questo spinete che si è un po' man mano allontanato dalla zona importante della classifica c'è stato un cambio di allenatore adesso c'è Gigi Carosella siete sempre lì che aggredite la zona playoff ma alla lunga avete leggermente mollato la presa questo ti chiedo secondo te forse forse involontariamente abbiamo perso qualche punto per strada comunque rimaniamo sempre in scia dobbiamo recuperare ancora una partita e quindi non abbiamo nessuna pressione addosso siamo tranquilli la società ci fa lavorare in modo sereno e a mio avviso sicuramente resteremo nelle parti nobili della classifica ecco si giocherà proprio mercoledì prossimo la partita per voi Casalinga Spinete Toro all'andata se non erro finì 1-0 per voi e praticamente c'è questo Toro che è in cerca di punti proviene da una sconfitta interna contro il Macchia di Sernia per 3-0 ecco che avversario ti aspetti perché sulla carta sicuramente è una partita abbordabile però queste sono quelle classiche partite da non fidarsi vabbè sulla carta può sembrare una partita facile ma in realtà non lo è il Toro è una buona squadra degli ottimi elementi quindi vendere a cara la pelle d'altro canto noi non possiamo permetterci più passi falsi e quindi daremo il massimo per vincere e rimanere come dicevo prima agganciate alle parti alte della classifica Gaetano Pescolla tu sei il portiere del Campobasso Juniore e si immagino che non saresti voluto essere nei panni di Conti ieri almeno alla fine del primo tempo sono cose che possono capitare perché Conti finora ha avuto un rendimento davvero ottimo straordinario considerato come portiere classe 96 però ieri due papere mettiamoci anche il secondo sicuramente anche in occasione del secondo c'è stata una svista del portiere non saresti voluto essere immagino nei panni di Conti perché poi quando sbaglia il portiere ecco come dopo il terzo gol tutti lo guardano tutti lo osservano no sì sicuramente la giornata no può capitare a Chiung però queste occasioni colpiscono specialmente il portiere perché essendo un ruolo unico essendo un ruolo unico perché se sbaglia il portiere va a incidere sul risultato mentre se sbaglia un attaccante sì ci possono essere rammarici però alla fine il risultato non cambia ecco per esempio sul terzo gol sì può succedere però che cosa sarà capitato un difetto di concentrazione sì forse sicuramente l'ha toccata la palla Conti sì l'ha toccata essendo però la palla viscita perché aveva piovuto tutto il giorno o una distrazione purtroppo gli è scappata di mano e finita in porta ma può capitare può capitare può capitare sì sicuramente va bene allora per quanto riguarda il campionato di eccellenza avevo detto in apertura che l'Isernia consolida il proprio primato approfittando del passo falso della gioventù d'Auna in quel di Gambatesa quindi vedete i risultati con il pareggio sia tra Cliternina e Sesto Campano che tra Fornelli e Vasto Girardi poi bellissima la vittoria appunto del Gambatesa ai danni dei pugliesi della gioventù calcioda senza problemi la diciassettesima vittoria dell'Isernia contro il Montacu la via via tutti gli altri risultati e spicca anche questo 5 a 4 della Sant'Eliana in casa del Roccaravindola per una classifica che vede avanti sempre l'Isernia che sarebbe a 52 invece secondo la classifica quindi con la penalizzazione è a 50 gioventù calciodano a 45 quindi questo gap di 5 punti è davvero considerevole a questo punto del campionato è la diciannovesima giornata quindi quarta di ritorno deve davvero faticare Silvio Tedeschi stando alla lettera di questa classifica la gioventù calciodano per recuperare questi punti questi 5 punti che si fanno importanti quasi decisivi a questo punto del campionato si è detto bene i 5 punti iniziano a farsi sentire sinceramente sono un po' sorpreso perché non mi aspettavo che la gioventù da una perdesse questi punti due partite consecutive esatto però mi fa piacere per l'Isernia perché comunque è una squadra molisana dove ci sono degli elementi che conosco come Buonanno Panico e altri elementi molto validi e quindi faccio il tifo per loro e allora tu fai il tifo per l'Isernia che ieri Tavita ha battuto 4-0 in Montaquila a questo proposito sentiamo Pierluigi De Bellis allenatore dell'Isernia e Donato Berardi allenatore del Montaquila in servizio di Pierpaola Modai mister De Bellis è arrivata la diciassettesima vittoria nel campionato davvero numeri da capogiro questa squadra che non conosce davvero limiti allora un commento su quest'altra grossa prestazione dei suoi giocatori sì onestamente ecco stiamo facendo un grosso campionato un passo che magari già a priori nessuno poteva aspettarsi anche una previsione ottimistica bene così stiamo lavorando bene i ragazzi si impegnano quotidianamente in tutti gli allenamenti anche la qualità insomma inizia pure a vedersi per cui questo è di buon auspicio per la prossima partita ma soprattutto per la fine del campionato visto che insomma siamo riusciti a recuperare qualche altro punticino sulla sulla nostra pretendente e questo insomma ci fa stare anche un po' più tranquilli Donato Berardi allenatore del Montaquila allora come commenta questa sconfitta da parte dei suoi ragazzi penso che abbiamo disputato una bella partita i Serna sapevamo che se l'affrontavamo chiudendoci troppo potevamo avere grossi problemi invece l'abbiamo affrontata penso a viso aperto ce la siamo giocata tranquillamente i Serna c'è qualcosa in più purtroppo nel momento in cui siamo scesi fisicamente mentalmente i due giocatori là davanti hanno fatto la differenza comunque io sono soddisfatto dei miei giocatori sappiamo che i Serna è forte quindi va bene così ripartiamo subito per vincere contro Cliternina e salvarci abbiamo parlato di questa vittoria della gamba tesa ai danni della gioventù calciodamone allora non abbiamo interviste relative ai pugliesi che hanno preferito non parlare in segno di credo di protesta dovrebbe essere questa l'interpretazione per alcune decisioni arbitrali evidentemente c'era rammarico in casa il gioventù calciodamone che ha preferito poi non rilasciare dichiarazioni e allora sentiamo solo contributi del gamba tesa da vita abbiamo sentito un Giuseppe Totaro soddisfatto dei suoi ragazzi a questo proposito lo sentiamo riguardo la partita gambatesa gioventù da una in servizio di Francesco Brunale si restati bravi soprattutto dopo l'1-1 a non perdere la calma quando loro avevano preso in mano il centrocampo diciamo che sei stato abbastanza chiaro nell'analisi della gara hai detto benissimo avevo chiesto questo ai ragazzi di non innervosirsi di non deconcentrarsi e questa probabilmente è stata la chiave della nostra vittoria ecco è stato devo fare veramente oggi complimenti ai ragazzi perché sono stati esemplari anche dal punto di vista della disciplina del comportamento hanno pensato solo ed esclusivamente a giocare a calcio questa è la squadra che voglio questa è la squadra che che mi piace allenare poi con quei tre da là davanti che sono piccoli e imprevedibili non date punti di riferimentare difese avversarie soprattutto non trovate difese abbastanza forti fisicamente insomma questa può essere un'arma a vostro vantaggio abbiamo dei giocatori abbastanza rapidi anche molto bravi tecnicamente quindi bisogna sfruttarli per quelle che sono le loro caratteristiche noi abbiamo la fortuna di avere sia Antonio Bianco un under ricordo un under un 96 insomma voglio dire sembra un veterano per come gioca poi abbiamo Polsella e Iderrelli li conoscete tutti insomma non devo non devo essere io quello che deve lodare questi ragazzi oggi lodo la squadra perché secondo me la squadra oggi ha dato una grande dimostrazione di maturità di prontezza e e di spirito di squadra allora andiamo a fare qualche considerazione sulla classifica del campionato di promozione insieme a Silvio Tedeschi ma anche insieme a Gaetano Pescola grazie alla nostra prontissima regia da qui a qualche secondo vedremo la la classifica del campionato di promozione non di eccellenza perché continua questa lotta al prima ecco Pietra Monte Corvino 39 Campo di Pietra 38 e poi c'è questo equilibrio di cui parlavamo quindi adesso sarebbero promosse Pietra Monte Corvino e Campo di Pietra Silvio poi Macchia Montenero Alife e Spinete voi con una partita in meno allora da qui si capisce quanto è importante la partita del recupero vostro contro il Toro perché vi consentirebbe addirittura di fare due salti in avanti sì ma è una partita molto importante la classifica è corta quindi i punti sono pesanti è un campionato molto bello livellato verso l'alto ci sono giocatori che hanno militato in categorie superiori quindi questo lo rende ancora più affascinante noi siamo contenti del nostro percorso che stiamo facendo la società è soddisfatta e alla fine tireremo le somme Gattano Pescolla le prime due salgono di categoria Pietra Monte Corvino 39 38 Campo di Pietra poi ci sono via via tutte le altre Alife c'è anche lo stesso Spinete e il Macchia che è a 36 se non erro Silvio 37 30 insomma è lì sotto di un punto rispetto alla seconda sarebbe clamoroso se passasse perché ne ho promossa però ovviamente lo può meritare tranquillamente sul campo fino a chi chi è coinvolto per la lotta per salire direttamente secondo te quindi fino al secondo posto ma secondo me le dirette a salire in classifica sono la terza e la quarta perché essendo una classifica corta quindi togli già lo Spinete senza sapere il risultato della partita contro il Toro ma lo Spinete se riuscirebbe a vincere contro il Toro lo stesso se la giocherebbe con le altre la terza e la quarta e poi saranno le partite finali a dichiarare le vincenti ecco ecco quindi questo equilibrio che regna e che ingloba almeno 6-7 squadre almeno rende il campionato più apprezzabile rispetto a quello di eccellenza dove ecco qualche l'Isernia ha un po' preso il largo c'è da giocare sempre questo scontro diretto a Isernia ma l'Isernia almeno una sconfitta se la può permettere sulla carta quindi un jolly se lo può giocare se lo può giocare a mio avviso credo che ad oggi i giochi sono fatti ad oggi secondo te i giochi sono fatti con 11 partite ancora a disposizione però ci sono ancora 33 punti volevo sapere una cosa da Gaetano in futuro tu sei un ragazzo giovane 17-18 anni siamo di più o meno ti piacerebbe diventare portiere del campo basso? ma sicuramente sarebbe il mio sogno è ovvio ora mi sto impegnando e sto cercando di dimostrare quel che valgo durante la settimana mi alleno tantissimo grazie all'aiuto del campo basso prima squadra grazie all'aiuto di mister Rienzo e Stefano Vavolo e penso di raggiungere sempre risultati maggiori dai migliorerai sicuramente già sei bravo perché l'ultima partita contro la Manfredonia 6-0 avete vinto quindi forte ignorata ma durante le amichevoli che spesso si fanno il giovedì pomeriggio spesso e volentieri vengo a vederle pure io c'è l'inversione dei portieri se non erro quindi tu pari con il campo basso prima squadra sì ecco quindi questa è una tecnica che usano gli allenatori perché altrimenti subirebbe troppi pochi di l'importa il portiere che sarà a titolare la domenica non so chi gioca poi chi viene designato tra Conti e Maggi sicuramente poi si alternano quindi tu pari con il campo basso prima squadra quindi confermata questa cosa Fornelli Vasto Girardi è terminata 1-1 il nostro Gennaro Bustelli è intervistato per noi Gianni Arciullo allenatore del Fornelli e Alberto Bernardi allenatore del Vasto Girardi vediamo Gianni Arciullo mister del Fornelli un gran punto guadagnato con una squadra di alta classifica sicuramente è un punto veramente duro contro una signora squadra e i risultati proprio i più recenti parlano da solo infatti hanno battuto in settimana nel recupero di Monti Dauni una situazione la nostra un po' così incontra infortuni squalificati gente che non viene a giocare insomma stiamo veramente facendo enormi sacrifici meno male siamo stati pagati oggi con questo punto che secondo me è importantissimo i punti migliori fioccano sempre con le squadre migliori infatti quando poi ci capita l'occasione di poter giocare con le pari classifiche magari falliamo un appuntamento però noi ci proviamo sempre il sacrificio dovrebbe ripagare così dicono Alberto Bernardi mister del Vasso Girardi due punti persi senza ombra di dubbio sì però questo è il calcio quando tu non non sfrutti la mole di gioco che crei le occasioni che ti capitano poi il calcio può essere così ti basta un errore loro davanti hanno qualità sapevamo che alla prima palla potevano punirci e così è stato peccato perché perché ci credevamo insomma dopo la prestazione importante che abbiamo fatto col Monti Dauni ci tenevamo a dare continuità di risultati purtroppo non ci siamo riusciti però ci rimboccheremo le maniche per la prossima gara domenica prossima sosta non solo per la Serie D ma anche per i campionati regionali quindi fermi eccellenza e promozione per consentire la disputa della finale che si giocherà a Trivento tra i Serni a finale di Coppa Italia tra i Serni Olimpia Riccia un pensiero su questa finale Silvio Tedeschi poi può spuggire a qualsiasi pronostico proprio perché trattasi di partita secca sì ma è una partita secca e quindi è da tripla può succedere di tutto io sarei contento se a Lisernia il campionato è a Riccia la Coppa Italia così contente tutte e due le formazioni per fare una sorta di giustizia sì sì e Gatano Pescolla tu come la pensi l'anno scorso fu Campobasso Fornelli e vinse il Campobasso 2 a 0 ma penso che Lisernia meriti di vincere anche perché è in vetta la classifica e questo dimostra che forse è la squadra più forte di questo campionato ecco ecco però è una finale ma se ci riferiamo alla classifica potrebbe essere tra virgolette poco attraente perché almeno in classifica c'è un grandissimo divario però le finali come si dice? sì è una partita finale secca e comunque penso che Lisernia è un'ottima squadra per non togliere neanche a Riccia che lo stesso sta disputando un ottimo campionato però penso che Lisernia sia una squadra più competitiva e forse avrà la meglio Senti per quanto riguarda il tuo Ripalimosani dico tuo perché tu sei di Ripalimosani un ottimo 0 a 0 contro il campo di Pietra sì un ottimo 0 a 0 anche meritato perché ha disputato un'ottima partita il Ripalimosani e sì forse lo 0 a 0 era il risultato migliore però diciamo per scalare la classifica ci vogliono delle vittorie è una situazione un po' al limite voi siete ultimi in classifica sì si lotta proprio per evitare l'ultimo posto sì si lotta per evitare l'ultimo posto però spetterà l'allenatore e la squadra preparare bene le partite e scalare la classifica ecco va bene ultimo non campionato contributo del campionato di eccellenza Davita è quello tra Cliternina e Sesto Campano finita 1 a 1 abbiamo sentito a questo proposito Maurizio Anzivino allenatore della Cliternina e Giuseppe Rea attaccante del Sesto Campano i servizi di Pino Somma mister Maurizio Anzivino sempre il sorriso stampato sul tuo volto però devi essere contento perché la squadra ha giocato una buona partita un 1 a 1 che forse vi ha stretto perché eravate stati bravi a passare in vantaggio poi avete gestito bene il confronto però di fronte avevate una signora squadra sì sì vabbè il Sesto Campano conosciamo tutti quanti la quarta forza del campionato quindi avevo paura di queste palle un po' vaganti in aria era la mia paura infatti su una palla così ci hanno pareggiato però la partita è stata bella aperta secondo me non è che meritavamo di vincere diciamo che il pareggio alla fine è giusto però come era andata un po' la partita ho fatto l'acquolina in bocca sì diciamo che il primo tempo abbiamo avuto un paio di situazioni per cercare di sbloccare noi la partita però poi diciamo su una piccola disattenzione nostra difensiva siamo andati in svantaggio però il secondo tempo abbiamo cercato di rimontare in tutti i modi ho sbagliato pure un rigore il primo tempo però abbiamo messo l'anima in campo abbiamo pareggiato anche in 10 contro 11 per un un'ingiusta espulsione però comunque abbiamo lottato fino alla fine anche se non siamo riusciti a vincere la partita allora allora eccoci di nuovo in studio dopo l'ultimo contributo del campionato di eccellenza a breve vediamo anche la moviola dei campionati di eccellenza e promozione però prima Tabita cosa c'è? Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità ci vediamo tra pochissimo non cambiate canale di nuovo in studio ultima parte di Molise a calci Silvio Tedeschi non ti posso chiedere un bilancio finale perché ovviamente siamo a metà un po' più della metà del campionato però finora hai fatto sette gol in campionato due più due in Coppa Italia un campionato per te contraddistinto anche da queste espulsioni perché hai avuto tre giornate di squalifica di cui parlavi a inizio trasmissione ma anche da numerosi e noiosi infortuni sì è stato fino ad ora diciamo un campionato tra virgolette sfortunato perché partite giocate ne sono ne ho giocate poche quindi una dozzina credo però stiamo facendo comunque bene mi auguro che per il rush finale sarò pronto e dare una grossa mano ai miei compagni 12 partite 7 gol insomma una buona media sì puoi ritenerti soddisfatto ma adesso sei completamente ristabilito dopo gli infortuni sei sano clinicamente sano sono distratto solo dal lavoro però giusto che sia così e quindi va bene così va bene così distrazione per il lavoro per carità ci sta assolutamente giusto ci sta non so volevi chiedere qualcosa a Silvio Tedeschi sì volevo sapere se nella partita contro la Torre Magliano ti saresti aspettato il pareggio oppure se era un incidente di percorso no io vabbè volevo comunque vincere però sapevo che non era facile perché eravamo rimaneggiati quindi il mister ha dovuto tra virgolette improvvisare una formazione alla fine è stata una partita dove si poteva vincere si poteva perdere e non si è fatto male nessuno così Gaetano Pescola tu che vivi nell'ambiente del Campobasso ci puoi confessare se c'è già qualcuno inodore di prima squadra prima o poi arriverà il turno di qualcuno in prima squadra io ne sono sicuro perché l'anno un vullo versione Lega Pro terzo anno di Lega Pro straordinaria salvezza conquistata nel girone di ritorno e sette partite dell'andata convocò due ragazzi Palmiero e Mauriello dalla Juniors li fece anche esordire secondo te c'è qualcuno e se c'è chi è il più indiziato? no penso sì che ci sia qualcuno inodore prima squadra inodore in prima squadra perché ci stiamo impegnando tantissimo infatti i risultati il sabato si vedono scorso sabato abbiamo vinto 6 a 0 e l'autore di 4 Corri è stato proprio Perrella e penso che sia Perrella il più indiziato a fare qualche presenza in prima squadra e il capitano Diego Tucci anche un ottimo ragazzo si sta impegnando tantissimo e penso che anche lui sia un buon soggetto da portare in prima squadra ecco ricordiamo sempre che Corbo ha fatto una panchina macerata quindi Corbo Tucci e poi è detto Perrella perché Perrella se lo sta conquistando questo eventualmente questo posto in prima squadra questa convocazione dovrebbero essere i giocatori più indiziati a vestire il rosso-blu anche in serie di squadra allenata da Salvatore Bullo Tabita vediamo qualche azione saliente nel secondo blocco della Moviola a cura del direttore Antonio Di Lallo con le immagini siamo a Lancellotta 44esimo del secondo tempo in area di rigore del Montaquila Buonanno viene affrontato dal portiere Castagna che non prende il pallone vedete il pallone che poi si vede che era filtrato alle spalle del portiere del Montaquila allora Castagna va sulle gambe di Buonanno questo è calcio di rigore tutta la vita giustamente concesso dal signor Monda di Napoli poi dagli 11 metri dagli 11 metri trasformato viene anche espulso il portiere Castagna trasforma dagli 11 metri lo stesso Buonanno gol del vantaggio del gamba tesa rilancio dalla difesa vedete il pallone che arriva dopo un rimpallo a Polsella qui dobbiamo fermarci perché vedete quando tocca Polsella un attimo prima questo è il momento del Re probabilmente tenuto in gioco dal giocatore alla sua sinistra il primo giocatore in maglia blu sulla sinistra del teleschermo ma andiamo avanti perché l'azione sul filo del fuorigioco c'è il tiro di Del Re ribatte il portiere della gioventù down a Monaco andiamo un attimo dietro perché qui ha protestato la gioventù down anche per il rimpallo vedete sul fuorigioco nessuno alza le mani quindi nessuno praticamente ha anche chiesto il fuorigioco di Del Re però sulla ribattuta del portiere vedete c'è il tocco di coscia non la tocca proprio con il braccio perché vedete Del Re il braccio è dietro il pallone va a rimbalzare sulla coscia finisce in rete protesta la gioventù down ma questo era un gol perfettamente regolare giustamente giustamente concesso dall'arbitro Barbiero di Campobasso pareggia il Fornelli contro il vasto Girardi doppio errore perché c'è un passaggio all'indietro per Caserta Caserta offre al portiere al suo portiere ma non si accorge andiamo un attimo dietro perché l'errore di Caserta è veramente macroscopico vedete passaggio al portiere non si accorge che si inserisce Russo che infatti salta il portiere Ameli e va a fissare il pareggio del Fornelli gol regalato ma prontissimo Russo ad approfittarne calcio di rigore per il sesto campano la palla per da Conte a Corovas entro l'area di rigore andiamo un attimo dietro perché qui c'è tutto il fallo vedete Di Longo difensore della Cliternina siamo in area non colpisce il pallone colpisce le gambe questo è calcio di rigore tutta la vita giustamente concesso dal signor Bruscino di Campobasso poi va al tiro Rea ma Melfi portiere della Cliternina riesce con un balzo a deviare il pallone a Castelmauro undicesimo minuto del primo tempo partita persa dal Castelmauro qui c'è il lancio per Michilli noi non abbiamo il campo largo però l'arbitro ha fatto continuare quindi Michilli è stato ritenuto in posizione regolare arbitro il signor Lustrato di Campobasso Michilli tutto solo vedete ritenuto in posizione regolare che sull'uscita del portiere Granata alza incredibilmente da due passi poi il Castelmauro ha perso qui siamo nel pantano del campo di Toro calcio di rigore per il Toro c'è questo fallo andiamo un attimo dietro di Caranci difensore del Macchia di Sernia su Ruggero diamo un attimo dietro perché qui vedete Ruggero che anticipa il pallone ecco qui vedete ecco qui poi si lancia a questo punto arriva anche il calcio di Caranci qui abbiamo qualche dubbio che ci fosse effettivamente il calcio di rigore concesso dal signor Cicchini di Termoli comunque mette tutto a posto il portiere Miele perché sul tiro di Vena va a tuffarsi e a deviare il pallone evitando la capitolazione calcio di rigore chiesto dal campo di Pietra Ripa Limosani vediamo la girata di Cefaratti c'è una deviazione di Di Domenico salva il portiere del Ripa Avornia poi la palla vedete finisce davanti al numero 2 del Ripa Limosani che praticamente nel tentativo di rovesciare cade la colpisce con il braccio ma a nostro avviso questo è un fallo involontario c'è il fallo di Mani probabilmente ma il giocatore è scivolato quindi non crediamo anzi escludiamo che ci fosse volontarietà ha fatto bene il signor Totaro di Termoli a far proseguire partita Juniores quarto gol del Campobasso bel gol di Carmosino anche qui andiamo un attimo dietro con le immagini perché sull'uscita del portiere Carmosino anticipa tutti con un lob e mette a segno il poker per il Campobasso che poi vincerà 6-0 sempre Juniores cross di Manes questo è il gol che ha consentito al Termoli di vincere vedete come va Persichetti Persichitti a centro area vedete con la schiena voleva colpire di testa andiamo un attimo dietro perché è veramente strano l'attaccante centrale del Termoli che vedete si avventa sul pallone voleva colpire di testa poi va di schiena incredibile ma vero realizza il gol della vittoria del Termoli allora Gaetano Pescolla un episodio ha riguardato la tua partita vale a dire il pallonetto bello di Carmosino ma ti chiedo se il portiere del Manfredonia era fuori posizione secondo te sì forse doveva uscire a chiudere lo specchio invece ha esitato a metà strada l'ha pure colpita la palla la schiaffeggiata e per quanto riguarda invece il Ripalimosani Campodipietra ha chiesto un rigore il Campodipietra presunto braccio di un difensore del Ripalimosani in area di rigore però lì c'è un rimpallo qualcosa che può sfuggire alla volontarietà secondo te in quella situazione la situazione non era calcio di rigore perché il difensore stava cercando di spazzare via la palla è scivolato e ha toccato cadendo tra l'altro sì cadendo ha toccato la palla con le mani ma è sicuramente involontale e poi Silvio Teleschi non so se ti sia mai capitato di segnare di schiena di spalle come è capitato al giocatore del Termoli Juniores no l'ho visto fare solo a Cristiano Ronaldo però sicuramente lì era intenzionale il gesto tecnico mentre quello del Termoli forse è stata un po' fortuna Tabita vediamo Top e Flop come vuoi tu che dici sei curioso come vuoi tu sono sempre curioso di sapere le tue promozioni e le tue bocciature settimanali allora vediamo Top e Flop questa settimana un bell'Oscar lo merita proprio Francesco Nardacchione del Cerce Maggiore quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare il Castelmauro passa e Narda si arrambia da lì parte la tripletta decisiva che castiga i locali e preme il Cerce con una bella vittoria Big Narda Flop alla Civitanovese due volte sotto è brava a pareggiare sul campo della prima della classe con una doppietta il capo cannoniere a Modeo ma poi è Garaffoni a superare gli ospiti e a regalare mezza Lega Pro alla Maceratese forse l'ultimo treno perso per la vetta dalla Civitanovese forse la vittoria giusta per i locali in vetta qualcuno se ne sta andando solo soletto Allora sì posso essere anche d'accordo però anche Miani ha fatto una tripletta Giustamente però una settimana cioè un top e un flop devo dare uno solo giustamente ma poi la tua rubrica è anche come dire finalizzata a dare una finestra ai campionati di eccellenza e promozione poi per quanto riguarda Maceratese e Civitanovese la Maceratese si sta avviando veramente a grandi passi verso la Lega Pro ci auguriamo che poi se dovesse andare in Lega Pro si possa fare una tribuna stampa un po' decente a Macerata perché non si è visto praticamente nulla in occasione dei gol della Maceratese e Francesco Nardacchione 3 gol davvero tanta roba si dice in questi casi tu lo conosci ha fatto vincere il cerce maggiore praticamente da solo ieri vabbè da solo da solo no dai da solo no però diciamo che si è portato il pallone a casa si è portato il pallone a casa e poi quella esultanza dopo il terzo gol ha baciato la terra si vabbè evidentemente si è sentito di fare così e va bene va bene va bene per Silvio Tedeschi impegnato mercoledì prossimo in Spinete Toro mentre ferie per Gaetano Pescolla almeno per una settimana poi riprenderete contro chi Gaetano alla ripresa delle ostilità contro il Chieti contro il Chieti quindi allo stadio Angelini di Chieti state facendo davvero un bel percorso siete quinti in classifica quindi state onorando la maglietta rosso-blu state onorando questo progetto gioca condotto da Angelo Santoro allora Tabita grazie e domenica prossima anzi lunedì prossimo ci concentreremo quasi esclusivamente sulla finale Isernia Riccia della finale della Coppa Italia e avremo un vincitore un vincitore io infatti non vedo l'ora di sapere chi sarà il vincitore e sarai accontentata alle 17 di domenica prossima allora grazie a te Gianni grazie per avermi tenuto compagnia e per averci tenuto compagnia insieme ai nostri cari ospiti e volevo ringraziare Silvio Tedeschi grazie in bocca al lupo per la partita mercoledì crepi crepi e in bocca al lupo anche a te Gaetano Pescolla spero di vederti in futuro nel campo basso grazie va bene un saluto e un ringraziamento anche da parte nostra l'appuntamento è fissato per lunedì per una nuova puntata di Molise a Calci buonasera a tutti in collaborazione con design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina-Isernia-San Salvo uscita a Civitanova del Sagno Consul Brokers SPA via Monsignor Bologna 56 Campobasso broker di assicurazioni a Civitanova del Sagno